...rescaldata, dice. Rimangono poi le critiche dei 5 stelle al PD. È occupato più su un dibattito interno sull'eligibilità o l'inelegibilità o chi voterà dei senatori sostanzialmente inutili in un senato sostanzialmente inutile che diventerà un dopolavoro per consiglieri regionali spesso indagati e che avranno l'immunità parlamentare. Il tutto per portare avanti delle riforme che non servono a questo paese.